Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, qui EnderGuard che vi parla e bentornati a questo nuovissimo video di Roblox. Allora, hanno aggiornato, aumentato, siamo sulla mappa Horrific Housing, una mappa che avevo portato un po' di tempo fa e so che l'hanno aggiornato, quindi vediamo, allora qua c'è sempre il passaggio segreto, questo non me lo ricordo com'è che era, era tipo così? No, lo hanno cambiato, così, 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 vabbè, e hanno fatto un po' di aggiornamenti che io mi sono totalmente, ho fatto così, ecco la roba, mi sono totalmente perso e quindi oggi sono qua per provarli assieme a voi. Allora, intanto, nella mia casa, ah, eh, io ho tutte le cose pasquali, ma, fammi dire, l'uovo Fabergé, mettiamoci un pet, perché io ne ho un sacco, cosa mi hai detto, però? Ehm, insomma, l'ho disegnato e con pain, tra l'altro, era questa? Sì, ecco, questa, e tra l'altro c'ho un nuovo che si schiuderà tra tre ore, quindi, ancora un po', guardate che bella questa pixelosa, mi piace troppo, ragazzi, questa è la mia preferita. Comunque, si parte tra 13 secondi Vedo dei fiorellini Vabbè hanno tolto le cose pasquali Però Nessuno sa come aprire questa cosa Vedo, intervengo io Ok, vediamo un po' Dove si ha il centro Ok Ecco queste sono le cose in realtà Di Pasqua Qualcuno avrà il Blocks Award No, c'è un assassino tra noi E qualcuno avrà il Frostbite Che non saprei come definirvi in italiano No, metà ora sta cadendo Aiuto Oh mamma mia Quello di fianco a me se l'ho vista brutta Si è salvato da me Io sono annoiato E mi sono messo a dormire Anzi, Tyred, no, pigro Tyred Sono svenuto Ok Poi Uno sarà super veloce No, chi è? Io no Eh? Ah, ancora Ancora la stessa cosa Basta, è sempre io E mi posso anche girare Guardate, mi giro Ma è sempre io Non ci credo Ok Qualcuno avrà il doppio degli HP Quindi dei punti vita Io Sei, sei, sei Che bello Qualcuno avrà una mini casa Oh, ah beh Che fortunato questo E se è distrutta la casa C'era una mini Qualcuno giocherà a Flood Escape A quello di fianco a me Ce l'è caduta la meteora La sua casa è diventata minuscola Adesso deve giocare a Flood Escape Ah, ma non è molto difficile È bello Come minigioco Andiamo Ce la fa? Ce la fa? Dai ce la fai? Ah, ce l'ha fatta Una plate verrà allargata La mia? Sì E dai Ecco Che bello Qualcuno sarà tipo invisibile? Sono io Sono io Eh? Devo uccidere questo tizio Ok Altrimenti Muoro Ma Come funziona sta cosa? Sei tu Ti devo uccidere Ti devo uccidere Eh, vabbè Oh Già La lotta per la sopravvivenza Qualcuno perderà casa Ok, a parte gli scherzi Ma nessuno Ah, quello lì, ok Quello è su Ah, sì Il pavimento sarà di ghiaccio a qualcuno, insomma Eccolo là Eh, una pozione misteriosa arriverà da un giocatore A me no Eh, aspetta scriviamo Slash e OJ No Sta arrivando il Natale Che bello Ecco Che bello Ok, basta Eh, una pozione misteriosa Sempre Poi Lavoro di Natale Bello Disco time Ok Ah, lui Ok Qualcuno perderà casa Chi? Ah, io Ok Anche se non è casa mia Ma vabbè Dettagli Mamma mia Qualcuno otterrà un fidget spinner Quello è morto E qualcuno si congelerà Fermi Eccomi E qua Sono totalmente invisibile nel cubo di ghiaccio Oh, no Eh, vabbè Io sono qua Ragazzi Sono immobile Non posso fare niente E questa è la mia vita da YouTube Ravento È una Cassa Cassa L'ho trovato il ghostly green Cosa Non ho aperto niente io Vabbè Eccolo questo Che schifo in mano Il giallo Il mio colore preferito Ma il giallo E vabbè Si riparte Canflex Ok Dove siamo questa volta? Ok Qualcuno vuole una sprite? No, io no Non mi è arrivata Meno male Ecco Ti cade una sprite dal cielo Insomma E tu cadi Ho detto Ecco perché non è caduto Qualcuno inizierà a urlare Traduciamo così Io urlo Ok Ehm Poi Oh, gioco Ok Qualcuno avrà il Bloxy Award Vabbè Io no Tanto guardate Sono nel mio campo di forza Oh no Il pavimento sarà lava Oh Quello di fianco a me Meno male Guarda questo Ma che è sbagliato Qualcuno giocherà Frida Facility Mio 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 Ok Ok Allora ragazzi Dobbiamo Videogiucare Gioca 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 Dai Ragazzi dovevo vincere il campione No raga Questo è il trampolino No Trump Trump di cacca Eh Trump 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 No mi ha rubato il coso vabbè Amen Ma è morto uno poverino Qualcuno diventa pazzo Ma cosa è successo? Va bene? Ho preso questo coso Apri Prego Devo imparare la combinazione Cosa ti metti davanti che non riesco a fare la combinazione? Sì Sì Allora aspettiamo che si tolga no? Vai Allora tac Tac L'hanno cambiata Non dovrebbe essere troppo difficile? No così non è Allora sarà così No così non è Vediamo se lo sa fare lei Sì si vede che lo sa fare Così? No Qualcuno giocherà di nuovo Fluid Escape Oh attenzione guardiamola Ha premuto un tasso Complimenti No perché no? La proviamo così Un virus tra l'altro Che bello La partita è anche finita Ecco Sì L'ho aperto L'ho aperto L'ho aperto Entro Entro No No non hanno premuto Non hanno premuto il Come si chiama? Oh non mi viene il nome vi giuro Mh Ah il coso degli illuminati Perché? Comunque siamo di nuovo in partita Questa sarà la nostra ultima partita Qualcuno avrà uno scudo protettivo No lei maledetta Eh vabbè ma io l'uovo Qualcuno avrà Inizierà un negozio Lui che bello No tra l'altro prima è anche caduto Qualcuno diventerà un picco rick Eh io no Chi? Io non vedo picco Ah eccolo Qualcuno perderà casa Io mi sposto Ah 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 Guard Stavo per dire io mi sposto Oh qualcuno volerà Eh? Ah ok Eh ma io ma No no C'è un murder C'è un assassino Attenzione Un sceriffo Bello 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 Cosa è successo? Allora ragazzi Se io avessi la webcam Avreste visto Ah ma lì c'è un bug di Roblox Quando tu premi un tasto C'è questa cosa O meglio che inizia a camminare da solo Quindi io sono morto per via di un bug Io non so Io questa Guarda questa la considero vinta Vinta Questa è vinta Ok? È vinta Ragazzi credetemi Allora facciamo l'ultima cosa Premiamo qua Le scintilline vanno verso l'alto Quindi adesso Togliti Non sai neanche farla Così? Sì 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 Qualcuno l'avrà ripremuto? Dovrebbe essere così? Infatti vedi che vanno verso l'alto Qualcuno l'ha ripremuto? Ah maledetti Oh qualcuno l'ha aperto Grazie 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 Dai sì sì Dai è diventato nero No Ma Ma No No Allora io entro qua Addio Hai amici ma Cioè Non posso perdere Però Bug di Roblox ragazzi Serve proprio una cosa che Non potrei sopportare nella mia vita E in più adesso sono l'inchiuso qua Quindi Ragazzi Vi ricordo di iscrivervi al canale Di lasciare like se il video vi è piaciuto Da Quindergad è tutto Ci vediamo ad una prossima puntata